Eccoci qua in questa fredda e umida giornata di autunno Tre cose che fanno tutti, tutti ragazzi della mia età, ma non solo, è che io non faccio L'intento del video non è ovviamente criticare chi fa queste cose, semplicemente vi racconto perché io non le faccio Sperando di darvi qualche utile spunto di riflessione, un punto di vista alternativo rispetto a quella che è la direzione intrapresa dalla massa Questa serie si chiama Riflessioni dal Bosco, in omaggio, ormai l'avrete capito, ci ho scherzato un po' su nelle precedenti puntate A Francesco Narmenni del canale Smettere di Lavorare che seguo con piacere da diversi anni Riflessioni dal Bosco è uno spazio in cui mi allontano momentaneamente da quello che è il piano editoriale classico di questo canale Per andare a toccare temi un po' più profondi, un po' più complessi come la ricerca della felicità Debbene essere fisico e mentale, lo stile di vita frugale, il raggiungimento degli obiettivi e via dicendo Non ho la verità in tasca, questo lo sapete, vi porto il mio vissuto, la mia esperienza Che ahimè inizia ad essere un pochettino consistente dato che non ho più vent'anni Spero di trasmettervi della positività, di darvi, ripeto, degli utili spunti di riflessione E se così non fosse ricordatevi che comunque è gratis E visto che è gratis, se apprezzate il mio lavoro, che ne direste di darmi una mano a mandare avanti questo circo equestre Acquistando tramite i miei link Amazon affiliati che trovate qui sotto in descrizione Che cos'è un link Amazon affiliato? Ditemi chi altro ve le spiega queste cose È un link mio, personalizzato, che Amazon mi permette di generare Attraverso il quale voi potrete effettuare i vostri acquisti senza spendere neanche un centesimo in più Ed io percepirò delle piccole commissioni pubblicitarie su questi vostri acquisti È un sistema molto utilizzato dai creator per generare delle entrate Entrate che io personalmente reinvesto sul canale Acquistando attrezzatura fotografica o finanziando i miei viaggi Ovviamente questo non è un invito allo shopping compulsivo Chi mi segue assiduamente sa bene come la penso riguardo agli oggetti Acquistate solamente le cose che vi servono realmente e che possono portare valore nella vostra vita Dunque, tre cose che fanno praticamente tutti e che io non faccio Numero uno, l'aperitivo E qui sicuramente vi attirerò all'antipatia di molti Perché all'italiano medio se gli tocchi l'aperitivo è come se gli toccassi, non lo so La nonna L'aperitivo secondo me incarna perfettamente il modello di svago, di divertimento proposto dalla moderna società capitalistica Ossia un tipo di svago strettamente legato all'esborso di denaro Strettamente legato all'esposizione, a cibi o abitudini poco salutari e che creano dipendenza Infatti se devo fare un aperitivo tipicamente dovrò andarmi a sedere in un locale Quindi pagare per occupare degli spazi Andrò a consumare bevande alcoliche e cibi molto calorici Cose che nutrizionalmente non mi danno niente Ma che al contrario possono far male alla salute se diventano un'abitudine Cose che possono facilmente compromettere i miei risultati Se ad esempio sto cercando di dimagrire e sono in un regime di deficit calorico Perché se mi trovo davanti dell'alcol, se mi trovo davanti, che ne so, le patatine, i salatini, le pizzette Come avrete intuito non sono molto esperto di aperitivi Quindi quelli di voi che si sentono più ferrati in materia Mi faccialo qui sotto nei commenti un elenco di cosa tipicamente si mangia e si beve in queste circostanze Diciamo che se mi trovo davanti bevande e cibi super calorici In pochi minuti senza neanche accorgermene, credendo di spizzicare Posso introdurre una quantità veramente importante di calorie E quindi magari vanificare tutti gli sforzi fatti durante la settimana Ma allora come mai fanno tutti l'aperitivo tutti fine settimana? Oh vi ho fatto questo esempio ma potrei farvene degli altri Come mai vanno tutti in discoteca e nei locali? Come mai vanno tutti allo stabilimento balneare a pagare svariate decine di euro al giorno Per un lettino e per un ombrello? Come mai in montagna vanno tutti a pranzo al rifugio invece di portarsi il panino? Questi rifugi assomigliano sempre di più a dei ristoranti Perché il modello di svago proposto dalla società come normale, come giusto, è quello lì Ma la società è pilotata dalle lobby, ossia da gente molto simpatica Che vuole farci lavorare e consumare Lavorare e consumare, lavorare e consumare A ritmi frenetici per la maggior parte della nostra vita Vogliono farci spendere tutti i soldi che abbiamo E anche quelli che non abbiamo Attraverso il sistema dell'indebitamento, dell'acquisto a rate E quello lo vedremo tra poco E quindi messaggi veicolati dal marketing Attraverso delle bellissime frasi ad effetto Quali sono? Che nel tuo tempo libero devi spendere, devi consumare Perché si vive una volta sola Che devi mangiare e bere in continuazione Perché quelli sono i piaceri della vita Che devi concederti un premio, un regalo Perché hai faticato tanto E quindi te lo sei meritato Tutte cazzate raga Proprio perché si vive una volta sola Bisogna riempire la propria vita di cose belle Di serenità, di esperienze Di relazioni profonde E per queste cose non c'è bisogno del denaro Il piacere raga non è la felicità Sono due cose ben diverse Il piacere lo potete acquistare col denaro La felicità no Ma la felicità dura A differenza del piacere Che svanisce in un attimo E se avete una vita felice Non avete bisogno di concedervi nessun premio Perché siete già felici E come recita quella bellissima frase Chi è felice non consuma Io personalmente ho scelto anni fa Di adottare uno stile di vita frugale In modo da non dover lavorare come un pazzo E in modo da poter fare solamente i lavori Che mi piacciono E che mi soddisfano Anche se non sono lavori super pagati O lavori full time Quindi evito di spendere i miei soldi incazzate E tutti i miei passatempi Non comportano inutili esborsi di denaro Al posto dell'aperitivo A me piace andare a fare una passeggiata nel bosco O sulla spiaggia Che è gratis Magari guardare un tramonto Piuttosto che mettermi seduto ad un tavolo In mezzo alla confusione Vado anche io a cena fuori ovviamente Vado anche io nei locali Ma per me non è un'abitudine È un qualcosa che capita poche volte l'anno Numero due Tra le cose che fanno tutti E che io non faccio Acquistare a rate Come abbiamo già detto La società ci vuole In primis lavoratori E subito dopo ovviamente consumatori Perché se spendiamo tutti i nostri soldi Abbiamo bisogno Di continuare a lavorare Continuando a fare lavori che non ci piacciono A ritmi sempre più frenetici Continuiamo ad essere infelici Se siamo infelici abbiamo bisogno Di concederci I famosi piaceri della vita Abbiamo bisogno di premiarci Per i nostri sforzi E quindi che cosa facciamo Consumiamo Acquistiamo E il cerchio si chiude Per farci spendere Oltre ai soldi che abbiamo Anche quelli che non abbiamo Si sono inventati Il sistema Dell'indebitamento Dell'acquisto a rate Dicendoci non ti preoccupare Quei soldi non è che non ce li hai Non ce li hai adesso Ma ce li avrai Quindi Ehi Sei comunque un figo In questo modo ci fottono Perché non solo ci compriamo robe Che non possiamo permetterci Perché banalmente non abbiamo i soldi Ma queste robe le andiamo a pagare Di più Rispetto a quanto le pagheremmo Se avessimo materialmente i soldi in mano Sto dicendo delle banalità Dele cose ovvie Che sanno tutti Ma allora perché la gente Continua ad acquistare a rate Ci sono dei casi In cui obiettivamente Non se ne può fare a meno Perché un oggetto serve Per vivere E serve subito Ma la maggior parte delle volte Le persone acquistano a rate Oggetti costosi Che non possono permettersi Perché devono fare colpo sugli altri La nostra società È basata sull'apparenza Tutti cercano di apparire Belli Ricchi Realizzati Agli occhi degli altri E gli oggetti costosi Giocano un ruolo fondamentale In questo Specialmente Laddove Manca La sostanza vera Il problema qual è? Che rimane apparenza Comprando a rate Si paga di più E ci si indebita Su oggetti Che si svalutano In poco tempo E che hanno alti costi di mantenimento Quindi per apparire ricchi Ci si mette Nella condizione Di diventare Di fatto Più poveri Non una grande idea Non sentitevi inferiori Non vi fate impressionare Da io stenta Perché molto spesso L'apparenza inganna Il vero ricco È quello che ha i soldi Sul conto in banca O meglio ancora Sul conto del proprio broker Perché magari Ha dei capitali investiti E come ci si arriva A quel punto lì Con la cultura Con l'educazione finanziaria Che in Italia Purtroppo è inesistente Fatevi un corso di finanza Un corso Sugli investimenti passivi Ce ne sono anche Di gratuiti In rete Vi assicuro che È tempo Molto ben speso Nel frattempo Sta sorgendo il sole Sta arrivando un po' di luce E siamo arrivati Alla terza cosa Tra quelle che fanno tutti E che io non faccio Ossia Frequentare persone Che non mi fanno sentire Completamente a mio agio Così Tanto per uscire di casa E non rimanere da solo Negli ultimi anni Mi capita sempre più spesso Di sentire I miei conoscenti O comunque persone Che gravitano Nelle mie cerchie sociali Lamentarsi Dei loro amici Delle persone che frequentano Pur continuando a frequentarle Io sono diventato ormai Un maestro Nel far indispettire la gente Perché ogni qualvolta Qualcuno Viene a lamentarsi con me Io chiedo sempre Ma se questa persona O queste persone Ti creano disagio Perché continui Ad uscirci insieme? Perché continui Ad andarci a fare l'aperitivo? È una domanda scomoda Che dà fastidio Me ne rendo conto Dalle facce che fanno Quando gliela pongo E dalle risposte che danno Che sono sempre Maldestre Vabbè sì Mi lamento un po' Perché sai A me piace lamentarmi Però non è così grave Eh sai Lui è fatto così Lei è fatta così Bisogna prenderli Per quello che sono Mamma mia Che brutte nuvole Speriamo che non viene a piove La mia intenzione Non è ovviamente Quella di far indispettire le persone Ma penso che l'aiuto migliore Che si possa dare Ad una persona che si lamenta È costringerlo A ragionare A guardarsi dentro Fermo restando Che non esiste aiuto possibile Per chi non vuole essere salvato E sta iniziando a piovere Maledizione Come mai ci ostiniamo A frequentare persone Che non ci piacciono O che comunque Non ci convincono del tutto Non ci fanno sentire Completamente al nostro agio Perché spesso Purtroppo percepiamo Il nostro valore Nella misura In cui questo viene riconosciuto Dagli altri Abbiamo bisogno Di una platea A cui sottoporre le nostre cose E da cui ricevere approvazione E poco importa Se questa approvazione È accompagnata Da mille Altri comportamenti tossici Ce li facciamo andare bene Io da qualche anno Sto cercando Di scardinare questa porta Di riconoscere Il mio valore Nei miei progressi Oggettivi Nei miei miglioramenti Come persona A 360 gradi Indipendentemente Dall'approvazione Di amici Famiglia O partner Quando smetti di essere Bisognoso Delle attenzioni altrui Quando stai bene Con te stesso Anche da solo Puoi permetterti Di selezionare Le persone Che ti metti vicino Perché a quel punto Non sei più bisognoso Di colmare un vuoto Ma sei desideroso Di aggiungere Valore A quello che già produci Per conto tuo Non so se sto riuscendo A spiegarmi Perché è importante Selezionare le persone Che ti metti vicino Perché le persone Che hai vicino Inevitabilmente Influenzano la tua vita E se ti leghi A persone problematiche Annullerai tutti i tuoi progressi E diventerai come loro Ragazzi Spero che questa chiacchierata Vi sia stata utile Scrivetemi qui sotto Nei commenti Che cosa ne pensate Raccontatemi Le vostre esperienze Se vi va Datemi dei suggerimenti Sugli argomenti Da trattare Nelle prossime puntate Fate quello che volete Io qui me ne devo scappare Perché tra un po' Mi sa che viene giù il temporale Grazie per avermi seguito Vi mando un abbraccio E ci vediamo prossimamente